La moretta, se noi giriamo l'Italia abbiamo diverse varietà legate a dei territori, voi di Slow Food sicuramente siete stati i primi a valorizzare i territori attraverso i prodotti. I prodotti molte volte rappresentano l'identità di un territorio perché ci sono delle storie dietro incredibili, le ciliegie penso alla garbagna del Piemonte e la moretta di Vignola, la moretta di Vignola è una ciliegia unica nel panorama di tutte le ciliegie del mondo e l'abbiamo scoperto adesso che è unica. Perché hanno sempre tentato di riprodurla, di copiarla eccetera, però viene bene qua e viene bene solo con certe caratteristiche di allevamento. Il terreno, il clima sono due... Il microclima, il terreno alluvionale del fiume... C'è delle caratteristiche, caratteristiche di ogni territorio... Ma il problema è che nel tempo è venuta fuori questa ciliesa, non so quando è stata selezionata, probabilmente viene selezionata nei giardini medievali, qua intorno al castello e poi passa nelle isole del fiume, quando il fiume fa tutti i rivoli eccetera, è un fiume a regime torrentizio che è molto... C'ha un po' d'acqua d'inverno ed estate invece ci sono tutte le isole, i rivoli che... E lì gli ortolani hanno cominciato a coltivarli con le verdure, con queste cose e hanno cominciato anche a piantare le ciliegie. Insomma, io non so, cioè noi abbiamo notizie sicuramente di 200 anni di questa, 150-200 anni di questa ciliesa. Questo libro, 12 pagine, mi dicono, adesso ne andiamo a leggere naturalmente, 12 pagine che raccontano di questa varietà. Ecco, io con lei vorrei, partendo da le ciliegie, partendo da questa location straordinaria, vorrei che lanciassimo un po' l'idea che il prodotto potrebbe sicuramente promuovere i territori, perché no? Beh, è chiaro che il prodotto promuove il territorio. Le ciliegie hanno fatto diventare famosa vignola, insomma, così nella storia. Già nel 1914 si citano 3.000 quintali di ciliegie a Moretta su 13-14.000 quintali di ciliegie esportate, esportate in Europa, in Germania, in Spagna. Qualcosa arrivava fino ad Oslo e alla Norvegia, insomma. E i nostri brida non sono stati capaci a riprodurla, a ricrearla? La Moretta è difficile, hanno provato a incrociarla con tante altre cose, perché la Moretta ha un sapore straordinario, ha un veramente dolce, eccetera. Oltre ad essere una ciliesa, diciamo, abbastanza precoce. Quindi hanno cercato di fare di tutto, ma alla fine viene fuori che la Moretta è unica, non si sposa con nulla adesso. Non sono ancora riusciti, quantomeno, a trovare un fidanzato serio per la Moretta, insomma. Noi abbiamo, non so se Marcucci riesce a vedere queste foto in bianco e nero. Queste sono scale, guardate un po', guardate un po' a quale altezza queste scale arrivavano. Oggi abbiamo cambiato forme di allevamento, anche oggi, nella convention di oggi, abbiamo fatto dei riferimenti straordinari di noi a varietà. Però non dobbiamo dimenticare questo bianco e nero? Assolutamente, non lo dobbiamo dimenticare, anche perché dal punto di vista del risultato, anche quantitativo, un ettaro di quelle ciliegie produceva molto di più di un ettaro delle ciliegie più moderne. L'abbiamo detto i breeder? Sì, lo sanno i breeder. Il problema qual è? Chi ci va a raccogliere adesso su quelle scale, che sono 15 metri, 11 metri, 12 metri. È difficile trovarli a terra. Esatto, è difficile trovare gli operai a terra, ma allora arrivavano tutti gli studenti, c'erano le persone di montagna che venivano qua a integrare il reddito. Forse dovremmo riprenderci un po' di questa... Slow Food propone un percorso di questo tipo, propone un percorso di non dimenticare che comunque avevamo delle economie forti che producevano tante cose, insomma, e di eccellenza, perché questa era una ciliesa che andava in tutta l'Europa praticamente, ed era una ciliesa nera, non rossa. Quindi resisteva anche al po', al trasporto. Resisteva al trasporto, partivano qua i vagoni pieni di ghiaccio, c'erano un sacco di fabbriche di ghiaccio qui. E c'erano... noi negli anni Sessanta contavamo circa il 25% delle esportazioni erano Moretta. Poi c'era il durone nero primo, il durone nero secondo, il durone nero terzo, il durone dell'anella, l'anellone e il durone marchigiano, quello che trovate di solito sotto spirito, quello più buono. Ma lei come fa ad essere così esperto di questa ciliegia? Perché vive, ha vissuto in questo territorio? Ho fatto il sindaco di questi paesi 12 anni e poi ho... e poi vengo dalla campagna. Cioè io sono figlio di mezzadri. Allora, chiudiamo con le ciliegie perché oggi è la regina, no? Da questo castello di Vignola. Eh, da questo castello di Vignola il messaggio qual è? È che venite a Vignola a mangiare le ciliegie a casa dei contadini e ci battevene sempre di più anche perché le ciliegie sono sane, hanno dei livelli di antociani, hanno dei livelli di sostanze interne che di solito sono sconosciuti ma che fanno parte delle nostre ricerche e delle nostre scoperte che fanno bene alla salute, fanno molto bene alla salute.